Siamo in questa meravigliosa piazza Libertà di Loano con l'assessore al turismo Remo Zaccaria suona le campane oggi il 29 maggio 29 giugno notte Biancolano un mese esatto sì un mese esatto notte Biancolano 29 maggio in questa piazza sarà l'evento clou e invito tutti a venire perché ci sarà un grosso ospite un grosso musicista Roy Paci io invito veramente tutti a venire a Loano quella sera di passare la nottata a ballare e cantare ma l'evento clou è qui alle 21.30 in questa piazza dove l'anno scorso è andata benissimo con Paolo Belli abbiamo riempito quest'anno le premesse ci sono tutti e ripeto una notte sotto le stelle qui nella estate loanese per iniziare alla grande e una novità voluta appositamente dall'assessore è questo speciale venerdì estivo sì finalmente venerdì otto serate da luglio ad agosto per dare i nostri ospiti nelle varie piazzette della città appuntamenti musicali interessanti direi a tutti di non mancare sarà un ottimo programma cover 60 70 ma soprattutto anche musica attuale musica insomma penso per esempio lo spettacolo di Cher una cantante internazionale quindi finalmente venerdì per tutti i turisti e i nostri cittadini nelle nostre piazzette di Loano per animare e offrire sempre qualcosa di più in questa estate loanese fra pochi giorni questa meravigliosa arena questo all'interno del giardino dei principi di Loano si animerà si animerà con una serie di manifestazioni per affrontare quest'estate sindaco vero dubbiamente l'arena del giardino del principe è sempre stato il teatro di tutte le nostre grandi manifestazioni e anche quest'anno sarà il grande contenitore della nostra estate una serie di spettacoli che andranno dalla musica leggera parlo di nina zilli all'opera all'operetta con grandi grandi manifestazioni e poi soprattutto il cabaret con barbontini e ceccon e altri nomi di zelig e di altre tv e poi qualche chicca come diciamo la festa del festival del film trash riprendiamo nella nostra memoria quelli che sono stati i film della nostra infanzia o gioventù con un grande spettacolo finale con Jerry Calao. Ecco poi naturalmente danza teatro insomma un grande contenitore per una estate loanese da non dimenticare